buongiorno come va mamma bene benissimo oggi benissimo dove sei io c'hai bene allora oggi la grattatina la faccio io ciao a tutti come va se caldissimo o streghetta bene allora cominciamo la grattatina ti ti anduro il biglietto manco certo dai che vediamo qua se vinciamo allora dove dice di andare mamma freccia che non vedo niente a destra e dopo qua a destra vai e dopo qua basso basso giugiu 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 in parte sinistra sinistra a sinistra ecco che ho già finito mamma eccola apposta sinistra e dopo che abbiamo da grattare questo aspetta cosa c'è questo qua cosa c'è qua la cuccia vediamo se troviamo cuccietta qua qua no qua no no vero ecco l'abbè questo no ma lì da più neanche i piccoli premis proprio lo avete una volta ogni morte del papa forse qualcuno per culo trova va bene va bene va bene qua avemo il camio pieno delle scuose di andare ancora al parco un trenero oggi apri al 1 e mezza e via questa se il divano niente e quasi la coppa e qua si va fermaissimo grattare qua aspetta niente mi perde no vero no niente no niente niente la cuccia 5 euro ciao niente perso tutto bene mamma saluta ciao ciao buona giornata a tutti eccola e buone passeggiate no no state a casa che si caldo che passeggiate si muore dal caldo ciao a tutti buona giornata oggi oggi si giovedì oggi penso di sì vabbè se si giovedì va bene domani chiamo da metti i sassetti sul bombolone del gas domani si chiude che il cantiere la buona giornata e ciao a tutti